buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo nuovamente gli aumenti degli stipendi dei prof degli annunci fatti via social anche dal ministro dell'istruzione del merito giuseppe valditara partiamo con la domanda numero 1 in che cosa consiste l'aumento stipendiale che dovrebbe entrare presto nel cedolino dei docenti per il 2023 ma anche per gli anni a venire e che completa gli aumenti stipendiali già ricevuti con cedolino di gennaio allora con l'integrazione si deve sapere che con l'integrazione dell'atto di indirizzo per l'utilizzo sulla retribuzione professionale docente di circa 300 milioni di euro inizialmente destinati per la valorizzazione professionale del merito si completa la parte economica del rinnovo contrattuale 2019 il 2021 l'aumento medio dunque a regime sarà di circa 120 euro lordi per il personale scolastico domanda numero 2 nel cedolino del personale scolastico compare la voce di indennità di vacanza contrattuale di che cosa si tratta nello specifico l'indennità di vacanza contrattuale è un emolumento inserito nel cedolino a compensazione del mancato rinnovo del contratto scuola 2022 2024 che si sarebbe dovuto rinnovare già dal gennaio dal primo gennaio 2022 si tratta di una anticipazione dei benefici economici che verranno attribuiti al momento del rinnovo del contratto e che saranno riassorbiti all'atto della stipola del ccnl 2022 2024 dopo sei mesi di assenza di rinnovo del contratto e dunque i sei mesi sono scaduti a giugno 2022 dunque dal luglio 2022 c'è stato uno uno scatto di indennità di vacanza contrattuale pari allo 0,5 per cento dello stipendio tabellare corrispondente a ogni classe stipendiale di appartenenza domanda numero tre gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale adas sono legati all'inflazione al carovita reale del paese nonostante i toni troi trionfalistici usati dal ministro dell'istruzione del merito sui social riguardo gli aumenti degli stipendi come per esempio il fatto che abbia scritto che firmando il cambio di destinazione di 300 milioni ha reso possibile un più alto aumento di stipendio ciò che le opposizioni non hanno saputo fare sostiene valditara è necessario spiegare che gli stipendi sono stati aumentati del 4 per cento mentre l'inflazione galoppa al 10 per cento dunque un'inflazione a due cifre quindi è chiaro che gli aumenti stipendiali del personale scolastico non sono affatto legati all'inflazione speriamo che le risposte alle domande che sugli stipendi possono essere utili a tutti i nostri telespettatori seguiteci ancora nei nostri canali social facebook ma anche youtube per che interverremo con tanti video proprio sulle problematiche della scuola arrivederci e grazie grazie